Eccoci, eccoci ragazzi. Ciao ragazzi. Siamo finiti nelle declos di nuovo. Siamo di nuovo nelle declos. E non ce l'aspettavamo. Torcia, torcia, torcia. Allora esploriamo di qua. Perché non ci ricordiamo. Ti ricordi la mia... È buio, è buio. È buio. Questa sono un po' di luce, se mi interessa. Aiuto, esploriamo di là se c'è qualcosa di misterioso. No, no, no. Corriamo. Ah no. Ah. E' scivoloso. Cosa c'è? Era scivoloso. Vorremmo vedere se l'ennesima volta si è aperto. Guarda, un'anfora. C'è un'anfora. Guardate cosa c'è, hanno messo questo. Un'anfora, amici. Nemmeno. È chiusa. A tutta parte non possiamo uscire, Safra. Nemmeno qui. Vorremmo vedere qui. Qua non siamo mai andati però. Niente. Cosa sono questi interruttori? Servono a qualcosa? Cos'è? Aiuto, aiuto. C'è qualcuno, c'è qualcuno. Asconditi qua sotto. Cos'è, Safra? Nasconditi qua sotto al tavolo. Non sono questi box, Safra. Mi sembrano un po' false. Sono strani questi box, Safra è molto fisico. Ho paura, ho paura, guarda. Ascondiamoci, sta arrivando qualcuno. Guarda. Che è che palla di là? Diamo vedere se non c'è di là. Chi è? Safra. Che è che palla? Safra! 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 Non mi lasciare, Safra! Non mi lasciare, Safra! Safra! Non mi lasciare, ma il mio è vedo. Cos'è? Un messaggio. Un biglietto, Safra! Non senti queste voce. Guarda, Safra! Guarda, Safra! Guarda, cos'è? Safra! Amici! Allora c'è lui! C'è lui? Cos'è? Il dito? Sapra! E' meglio che ce ne andiamo Ci portiamo al portiere Ciao amici Io vado Porta il nostro tesoro Ok Io vado via Ti lascio qui con te Hai fatto con me Ciao Ciao a tutti Ragazzi Per questo video è tutto Abbiamo compiuto un bel lavoro Abbiamo un tesoro Però adesso sento quelli di qualcuno Ma noi ce ne andiamo Via! Ciao! 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 Ciao!